Good morning Milano! Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti! Come state? 7.07, anzi 08 in questo istante di oggi venerdì 12 aprile. Ben ritrovati a tutti, ben ritrovati a tutti, sempre qua in diretta su Crystal Radio per raccontarvi un po' tutto quello che succede nella nostra città, ma non solo, insomma, tutto quello che fa grande la nostra città, ma non solo, anche tanti ospiti, ma tante tante altre cose che avrete qui nel ricco menù di Good Morning Milano fino alle 9 in diretta qui su Crystal Radio. Buongiorno ancora, vi ricordo anche il nostro sito internet Good Morning, goodmorning, con due o, goodmorning.milano.it potete ascoltare, rivedere, riascoltare, approfondire, avere anche il Focus Periferie, che è uno speciale che facciamo ogni tanto, che va non dal mercoledì, in versione podcast, ci sono anche i miei carissimi milanesi, un podcast esclusivo, con interviste esclusive a vari personaggi, tra cui Cochi Ponzoni, fra un po' arriverà Eugenio Finardi, insomma, tante tante altre cose, sempre sul nostro sito goodmorning.milano.it Voi che giornata avete da affrontare? Ditecelo, 331-78-535-555, il nostro numero di Whatsapp è qui pronto per accettare e apprendere tutto quello che avete da dirgli. È un po' la nostra chat GPT, voi ci dite le cose tramite il Whatsapp, dopo noi elaboriamo e vi diamo anche delle soluzioni, se volete, eh? Ma non so, proviamoci. Provateci, 331-78-535-555. Universo, Universo, proprio, appena abbiamo uscito, 2024, sì, 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 scusate, stiamo cercando una cosa, comunque ti dicevo, subsonica con Universo, perché parlo di Universo? Perché oggi è il 12 di aprile, e voi direte, quindi cosa succede il 12 di aprile? Pensate, il 12 aprile fu mandato nello spazio il primo uomo. Ebbene sì, nel 1961, Yuri Gagarin. Ebbene sì, i russi nel 1961 mandarono una sonda con dentro, praticamente un pezzo di ferro, dentro chiuso, quasi ermeticamente, il povero Yuri Gagarin. fu mandato, appunto, sullo Sputnik, no? Iniziato nel 1957 con i vari Sputnik a fare vari lanci, e, appunto, nel, il 12 aprile del, nel 61, abbiamo detto, sì, del 61, appunto, Yuri Aleksejvic Gagarin si accomodò, si accomodò, dentro la capsula del suo Vodstock 1, sulla rampa di lancio, appunto, di Banjkur, nella steppa del Kazakistan. fu lanciato nello spazio. Fu il primo essere umano ad andare nello spazio. Feci un'orbita terrestre completa, intorno, appunto, all'orbita, e poi ti ritornò sulla Terra il giorno dopo. Mi sembra più o meno, giusto? Sì, ok, sì. Interessante vedere come, appunto, da lì ad oggi, poi chissà quanto abbiamo fatto, no? Siamo andati praticamente ovunque, l'universo, lo spazio ci hanno sempre attirato, e da quel giorno, appunto, sempre tutti con il naso all'insù. Nonostante poi, andiamo a scoprire, ad esempio, che, non so, sappiamo quasi più quante, i buchi, sappiamo quasi più cose sui buchi neri, o su comunque zone remote del nostro universo, e poi ci sono degli abissi terrestri ancora inesplorati, invece, perché è ancora tantanta la parte di Terra, a volte sommersa, a volte no, che è ancora sconosciuta ai più. Sembra quasi impossibile pensarlo adesso, con tutto quello che abbiamo, i sonar, i satelliti, i satelliti con i raggi infrarossi, insomma, tutta quella tecnologia che ci porta a sapere praticamente tutto, beh, invece, c'è ancora molto di questa Terra che non sappiamo. E forse è questo che ci rende ancora più curiosi nel vivere, giorno dopo giorno, comunque, sempre. Ed è questo che deve sempre ricordarci di andare avanti ed essere, appunto, curiosi. La curiosità è fondamentale. Ah, ve lo dice uno che è una vita che è curioso e non smetterà mai di essere curioso. Io mi auguro che anche voi non lo smettiate mai e che magari alcune curiosità anche qui a Good Morning Milano riusciamo a sfamarle per voi. Grazie anche ai WhatsApp che stanno arrivando. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Fabio. Come stai? Bene, grazie Alberto. Questa mattina, bene, la febbre se ne è andata. Finalmente, sta velocissima, brevissima. Non so a chi dare la colpa o che patologia ho avuto, ma è stata veramente veloce. È finalmente arrivato il weekend, mi dice Alberto. È vero questa volta con il sole. È vero perché oggi, appunto, è venerdì e quindi ancora tutti insieme una volta. Thanks God, it's Friday. Bene sì, è venerdì. Siamo pronti per un weekend. Weekend di sole, quindi chissà dove andrete, chissà cosa farete. Bene, avete il WhatsApp per raccontarcelo. Non potrete andare nell'universo magari come hanno fatto in Subsonica e non potrete magari diventare un uomo delle stelle come racconta invece, come canta David Bowie. Ma io comunque a questo punto ve la faccio sentire. Lui è David Bowie e questa è Starman alle 7 e 16 minuti qui su Crystal Radio. Good morning, Milano. David Bowie con Starman. Lui era uno un po' ossessionato da questa cosa dello spazio, però gli anni erano quelli, ragazzi. Ma pensate veramente quanto in quel momento, se eravate un artista, venivate colpiti dalla febbre che c'era intorno a tutto quel movimento. Poi, attenzione, il culmine nel 69 con lo sbarco sulla Luna, ma non è solo quello. Capite che non è solo quella roba lì. È dagli anni 50 che si parte, i primi Sputnik nel fine anni 50, quindi già un pochino prima comunque se ne parlava. Tutto anche quel design che gli oggetti presero tra la fine degli anni 50 e la verità degli anni 60, anche oltre. Ci sono dei frigoriferi americani, se ricordate, che sembrano degli Sputnik, delle capsule, sembrano pezzi che adesso potrebbero tranquillamente essere attaccati alla IS, la stazione internazionale interstellare, lì, spaziale, e ci starebbero bene, gli automobili che sembravano dei razzi supersonici. Insomma, era tutto un proprio movimento, un momento, anzi, scusate, un momento anche culturale di design, in tutto che appunto ha messo le radici in tantissimi mondi, tra cui appunto anche la musica come quello di David Bowie. Quindi voi non andrete sulle stelle, credo, questo weekend, ma alcuni fanno delle cose invece interessanti, come ad esempio Nello, che ci scrive al 3317853555, che ci dice weekend in e-bike sui sentieri sterrati urbani che non sono pochi. Molto interessante, Nello. Sentieri sterrati urbani, che non sono pochi. Non so, mi viene in mente il bosco in città, così, su due piedi, però credo che ce ne siano anche altri a questo punto, cioè, effettivamente, il parco della Vettabbia mi viene in mente, dall'altra parte, il parco Lambro anche, ma forse non sono nei parchi, no? Ci saranno anche, immagino, nella parte sud, appunto, oltre la Vettabbia, verso i campi, cioè, credo che ci siano, non lo so, però magari anche in centro, non so, magari c'è un... Ah, no, sì, c'è un vicolo, dietro il vicolo Lavandai, c'è una piccola stradina che è sterrata, quella, effettivamente. Forse l'unico pezzo di Milano ancora rimasto sterrato, perché negli anni ce n'erano un po', io non ho fatto in tempo a vederli anch'io, quindi negli anni 90 ancora qualche via sterrata, da qualche parte si trovava, zona isola ce n'erano qualcuna, ad esempio, ormai non c'è più neanche quella. Però, effettivamente, è interessante, un weekend in e-bike, sui sentieri sterrati urbani, che non sono pochi. Bene, bene, bene. E voi altri, invece, cosa fate? Che cosa farete in questo weekend, eh? Oggi, eh, c'è parco... Eh, vabbè, allora, Nello deve abitare nella mia zona, così a naso, perché adesso, parco delle cave, trenno, bosco in città, perfetto, sì. Tra parentesi, un giro che si può fare completamente in bicicletta, perché sono collegati i tre posti, eh? Sì, sì, si può completamente chiudere l'anello senza quasi mai... Cioè, incrociando due volte la Ionovara, ma proprio per pochi metri. Per il resto, poi, è tutto in sede protetta, come si dice in questi casi. Quindi è un bellissimo anello. Parco delle cave, trenno e bosco in città. C'è bisogno di andare in e-bike, bisogno di andare in bicicletta, soprattutto nei giorni come oggi, perché, ad esempio, c'è ancora in città il G7 dei Ministeri dei Trasporti. E, ovviamente, che cosa va a inefficiare i trasporti, no? Perché il G7 porta in città, cosa? Le strade chiuse, tutto completamente bloccato per via di questo G7. E quindi, chissà quanto traffico ci sarà oggi in città, io non lo so, ma loro sì. Loro chi? Luce Verde, che ce lo racconta adesso, in diretta, la fotografia della situazione del traffico sulla nostra città, proprio in questo istante. A voi, Luce Verde! E questa era la Busch con Sweet Dreams, alle 7.35 minuti, qui su Crystal Radio. Gli eventi della settimana a cui io non andrei! Ebbene sì, Eri B, benvenuta! Mi hai preso in giro, mi hai messo un altro tappetino. No, è sempre quello. No? Adesso? No, no, è la versione più jazz. Ah, ok, va bene. Buongiorno a tutti! Senti, eh! D'aiuto! Il leone? E vedere? Cos'è l'effetto che fa? Vengo anch'io? No, tu no. No, io no. Ah, ok. No, io sicuramente no. Ok. E allora, gli eventi della settimana a cui non andrei! Allora, allora, buongiorno a tutti! Come sempre, ti ringrazio per darmi questo spazio all'interno della tua trasmissione. Prego, Eri B. Ok, ho temuto che questa settimana non si facesse questo spazio perché febbre ti colse. Eh, febbre ti colse, ma l'aspirina mi salvò. Ecco, bravissimo. A me mi ammazzerebbe. Ricordiamo, infatti, che Eri B è allergica al principio attivo dell'aspirina. Che sai qual è? Posso dirlo? Perché è una bella parola. No, non so qual è. È l'acetilsalicillico. Acetilsalicillico? Sì, ok. Abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Sì, volevo dirti questa cosa. Allora, molti non sanno... Ho fatto una domanda prima di andare in pausa per la pubblicità. Scusa, non stavo ascoltando. Ma non lo sapevo. Cosa faranno il weekend i nostri ascoltatori? Allora, Nello andrà con l'e-bike sui percorsi urbani in giro per la città. Bravo, Nello. Complimenti. Invece, Alberto dice, sì, guarda che questi percorsi urbani sterrati ci sono anche tra Barona, Bucinasco e D'Assago. Ci sono dei bellissimi cicloturistici tra i campi del Parco Sud. Sì. Tu conosci bene quella zona. Io conosco molto bene quella zona lì perché ci lavoro. Ah no, non mi pensavo di quello che hai fatto sabato scorso. Ah no, sabato scorso sono andata a fare una cosa che non avrei mai pensato di andare a fare. Tra l'altro organizzata da me, proprio c'è la coerenza alle volte. Sono andata a fare per la prima volta una cena con delitto. Oh, vedi. Quindi l'unica roba che tu conosci della zona dove ci sono i cicloturistici è un ristorante. Sì, è un ristorante che tra l'altro fa una roba interessante e secondo me ad Alberto potrebbe anche interessare. Alberto segna? È l'Oliuchenit di Bolliti. L'Oliuchenit di Bolliti? Sì, sì. Non mi ricordo, si chiama tipo ristorante La Risaia. Vabbè, l'ho detto. Vabbè, ok. Tanto se cercate cena con delitto viene fuori. Ok, comunque è lì nella zona appunto tra Barona e Buccinasco. Sì, 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 praticamente tra Barona, dietro Tre Castelli. Ok, non è Cantalupa quello però come... No, 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 assolutamente. Cantalupa è un'altra parte. È un'altra parte perché è sotto Famagosta, no? Sì, sì, sì. Allora, volevo dirmi questa cosa. Ah, c'è un altro Whatsapp su cosa? Scusa, è straordinato Whatsapp su cosa fanno nel weekend. Cosa fanno? Buongiorno da Quella di Bergamo. Io questa domenica farò qualcosa di particolare. Wow. Al quale non sono abituata. Uno shooting fotografico piuttosto serio. Infatti sto già preparando le borse con vestiti e accessori. Wow. Non so se potevo leggere sto messaggio a quest'ora. Vabbè, sì, assolutamente. Posso dire che cosa vado a fare io oggi? Dipende cosa vuol dire... Shooting. Shooting fotografico. No, proprio piuttosto serio. Piuttosto serio. Sì, no, ok. Però poi mi viene da fare delle domande. Cioè, perché fai uno shooting fotografico? Poi le foto te le metti in casa? Perché non so, magari servono per qualcos'altro. Ah, ok. Non so, ci conteranno. Corte della risaia, dice Alberto. Ah, bravissimo. Dito, pollice in su, quindi conosce ovviamente. Sì, sì, sì. E beh, vuoi mettere il bolliti? Subito l'hanno attirato. Corte della risaia, bravissimo. Bravissimo, assolutamente. E invece anche tu oggi dove vai? Sì, oggi vado a fare una cosa che non avrei mai pensato di fare nella vita, ma sono obbligata a farlo. Vabbè, gli esami del sangue, no? No, vado a fare un team building. Una ciumbia. Di orientering nei boschi. Hai saputo che si dice orientering? Io non orientering. Non lo so, io dico così. Credo si dica orientering. Che me frega. Tanto chi è che mi corregge nessuno? Tanto dove lo fate? A sesto calende. Ok, quindi si dirà, vado e chi vado è là. Comunque spero di perdermi e finire lì il mio team building. Ah, no, grazie. Auraga è stato bello. E quindi, niente, è stato bello conoscerti. Infatti, vedete, per chi ci vede sono tenuta sportiva. Ah, non sei moschino. Pensavo fosse un vestito moschino oggi. Comunque, torniamo a bomba. Gli eventi della settimana a cui io non andrei. Ah, poi c'è un'altra cosa. No, non è vero. Gli eventi della settimana a cui io non andrei nasce in questo momento. Un compleanno e ribì. Anni e anni, grazie mille, grazie mille. Oggi compio X anni. La tua rubrica nasce oggi. Sì, la mia rubrica nasce con il fastidio. Cioè, di base è questo. Per chi non lo sapesse, io sono nata e cresciuta in zona Navigli e ora vivo in periferia, come dice il mio medico di base. E diciamo che le prime installazioni del fuorisalone e i primi disagi veri del fuorisalone nascono tra Porta Genova e Via Tortona. Quando Via Tortona aveva ancora il ponte. Quindi diciamo che era veramente complicato e io lo penso tuttora. Quindi il fastidio per gli eventi a cui io non andrei chiaramente nasce da qua. Nasce per il fuorisalone. Sì, io credo almeno un quindici anni fa. Quindi quindici anni fa tu hai cominciato a dire basta agli eventi. Sì, stop. Stop, dimentica. E quindi nasce la tua rubrica, la tua idea di fastidio verso gli eventi a cui io non vorrei andare nasce proprio con il fuorisalone. Quindi tanti auguri. Grazie, grazie. Sono molto contenta della mia coerenza. Buona genesi. Grazie. Infatti per questi eventi della settimana a cui io non andrei sono tutti eventi chiaramente alla prossima settimana. Anche Alberto manda gli auguri via WhatsApp. Grazie, grazie mille. Pacche sulle spalle. Il primo che ti vorrei raccontare, sapete che insomma il fuorisalone è una cosa importante. Cioè ce ne sono tantissime di fiere, bellissime, e restano dentro la fiera. Qua si ha la necessità di fare delle cose di dubbio gusto fuori dalla città, fuori dalla fiera, quindi in città. Tra l'altro adesso super mega Brera, sta andando tantissimo. Vabbè Tortona questo è ovvio, ma è giusto che la genesi è lì, quindi va bene così. No, lo Lambrate. Io sono quasi contenta che su San Siro, almeno io non ho visto quasi niente. Ma potrebbe metterne una sotto. Vabbè, vi racconto la prima. Allora, dal 15 al 21, in zona Tortona appunto, ne ho scelta una tra tante. Il Giardino dell'Ottium. Ottium. Ma tu hai visto quanti eventi sono? Sì, lo so, infatti, devo dire la verità che mi sono anche un po' persa. 1032 eventi. Infatti ho detto, vabbè, faccio quelli che più mi interessano. In una settimana. Ok, Giardino dell'Ottium, di che cosa parlerà secondo te? Del non fare niente. Esatto, ispirata all'antica Roma, celebra la capacità rigenerativa del prendersi del tempo per sé. Raga, ma lo sapevamo. C'era bisogno di fare un'installazione? Cioè, a me questo è l'ovvio che mi dà un po' fastidio. Ah, ok, l'ovvio età. Sì, 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 assolutamente. Quindi, i giardini vanno per la maggiore. Ok. Perché poi c'è anche il Giardino delle Dee di Vanity Fair. Ne sentivamo sicuramente il bisogno. Al Chiostro del Museo del Diocesano, in Corsa di Porta Ticinese, il 95, ci sarà una mostra laboratorio sulla nuova creatività responsabile. Gratuita, con registrazione, il 16 e 17 nel pomeriggio. Dal 18 al 21, dalle 11 alle 21. Tu ci andrai sicuramente. Guarda, non andrei a nulla. Guarda, la creatività responsabile è proprio quello che ti senti più cucito addosso, secondo me. Va bene. Poi? No, perché devo dire che sono anch'io molto polemico col forestalone. Adesso sto guardando la mappa degli eventi. Ci sono i pallini gialli sulla mappa di Milano, no? Di Willy 32 e 20, appunto. Ci sono pallini dove, se tu clicchi, sono sul zoom totale della città di Milano, quindi ci sono pallini con più eventi dentro. Ci sono pallini in zona centrale con scritto 84, 43, 36, ok? La cosa che mi fa abbastanza sorridere è che praticamente è tutto all'interno della circombarazione. Sì, sì. C'è fuori, c'è pochissima roba. Sono due o tre pallini di cui uno a Ro, uno a Cascina Merlata, uno lontano su Palmanova e uno a Segrate. Se no è tutto praticamente dentro la circombarazione. C'è qualcosa intorno a Corso Lodi, ma pochissima roba, tutto concentrato. Sì, perché vogliamo congestionare per bene la città, ma è giusto così, ci piace a noi, a noi amici del design, ci piace da morire. Io vorrei prendere un architetto che quindi vive di design, vorrei capire se effettivamente si fa qualche evento nel fuori salone. E dovevi farli per PR, credo. Mamma raga, cioè, meno male che ho studiato tutt'altro, guarda. Comunque, il terzo che mi interessava è in Biagluc, quindi stazione centrale appunto. Spazi intimi, visioni, sospese tra architettura e design. Bello. Ma cosa vuol dire? Cioè, io veramente, io faccio fatica a questo. E là dove c'era l'erba, ora c'è il cemento. Poi, vabbè, la statale viene invasa da installazioni. Sì, io sono stato in statale venerdì scorso per girare un'intervista e c'era già tutto che stavano montando. Ah, un tempo lavoravo in centro, era bello perché andavi a vedere il famoso anno delle scimmie colorate. Sì, sì. Ok? Che è iconico, è rimasto quello. Però, voglio dire... Poi ci sono state lumache anche, mi sembra. Voglio dire, sti ragazzi che sono lì a studiare, secondo te, a loro, gliene frega qualcosa? Beh, credo di sì, nel senso, saranno anche contenti, no? Nessuno di loro studia architettura, gliene frega niente. Come, non c'è architettura in statale? No, è il Politecnico. Ah, ok. Ciao, mi chiamo. Beh, ma ci sarà qualcosa, design della comunicazione, qualcosa lì, no, quello Politecnico che vuole. Comunque, ci sono anche aziende che... Adesso stavo guardando su Instagram, Andrea Kerch ha pubblicato un palazzo con delle nuvolette. Eh, bello. Cioè, vabbè, non so. Però, vabbè, comunque, insomma, questo è il mio pensiero. Vi lascio con l'ultimo evento a cui io vorrei andare perché il titolo è molto bello. Ah, attenzione. Intanto si trova la solumeria del design, ti regalano pure un panino se vai alle 19 e fai l'aperitivo. Un panino ce lo regalano. Ok. Ok. La solumeria del design, ma riguarda la musica non c'è più. No. Si chiama Fuori Salume. Secondo me hanno indovinato. Giovedì 18 alle 18.30 fanno questo aperitivo dove chiaramente ci sono taglieri di salumi e ti regalano un panino. Vabbè, solo per quello ci vogliamo andare. Sì, ci andrei solo per me, perché secondo me il titolo funziona. Ok, sì. Vabbè, complimenti al Fuori Salume. Sì, esatto, esatto. Tu sei mai andato a fare qualche evento del Fuori Salume? Ma è ovvio che sì. Cioè, dico di no, ma poi ovviamente durante i miei 30 anni o fa, cioè, quando avevo 30 anni. Cioè, quindi stiamo parlando di epoche fa. Quando avevo 30 anni, sì. Cioè, quando io iniziavo ad avere il fastidio. Io ero lì che ti davo fastidio, molto probabilmente. Sì, molto probabilmente sì. Io non ho mai veramente amato questa roba. Avevo delle amiche che erano molto interessate a queste cose, ma mi sono tolto la via. Mi ricordo una via Savona, completamente chiusa al traffico, con delle varie isole che spillavano birre, cose del genere. Allora, però l'unica cosa che apprezzo di… Ho fatto in tempo a fare un Fuori Salone anche alla Stecca degli Artigiani, la vecchia Stecca degli Artigiani. Sì, sì, sì. No, l'unica cosa che apprezzo realmente di questa, diciamo, settimana del design, eccetera, eccetera, che è una wick. Sì. Quindi è coerente, nel senso che… Ah, è una delle poche wick che dura una wick. Sì, sì. Allora, questa fa 15-21, il Fuori Salone. Il Salone è 16-21, però voglio dire, quantomeno sono wick vere e non tre giorni. Sì, quello sì. Perché mi viene voglia di scaffeggiare, se sono solo tre giorni mi la chiami wick. Manca anche meno violenza, però adesso vede tutto. Forse non chiamarla come voglia, ma poi sta a te. Ma sì, ma raga, ma io non sono una bulla veramente. Insomma, sono cose diverse dai tuoi amici. Comunque, invece vorrei fare un po' di hype su questi eventi se uno è di Fuori Milano. Se uno è di Fuori Milano, secondo me ci può anche stare a venire. Ma tu vuoi dire che Fuori Salone significa che sei Fuori Milano? No, sei Fuori dal Salone. Ah, non è perché devi venire da Fuori Milano per apprazzarli. No, però secondo me tantissima gente di Fuori dice Oh, andiamo a Milano, ci sono installazioni del Fuori Salone. Scusate, parlano così. Ho fatto il Montese. Ah, il Montese parla così. Ok, credo sia un po' razzista come cosa, però va bene. Però le mie amiche Gianduiotte, cioè le amiche di... Perché Gianduiotte vuol dire che arrivano dal Piemonte o da Torino. Le piemontesi sono gasatissime a cannone perché fanno vedere una roba figa della città dove vivono e dove stanno. Cioè tu sei riuscita in un attimo a insultare quelli di Monza e quelli del Piemonte, così. Ma sì, ma potete insultarmi quanto volete, sentite come parlo, cioè fa ridere. Ah, ok, va bene. Cioè, zio. Ah, va bene, ok. Comunque, niente, Fuori Salone è il molto popo dell'anno. No, no, bandito, per me è bandito assolutamente, io non ne voglio dire. Più della fiera dell'artigiano, dell'artigiano in fiera? Allora, diciamo che questa è la versione... Quello è chiuso in fiera, però. Questa è la versione primaverile del fastidio e l'artigianato in fiera è la versione invernale. Ah, benissimo, ok. Però il fastidio vero nasce da qua. Ok. Da qua. Chissà se un giorno ti inviteranno ufficialmente al Fuori Salone. Non ci andrei mai. Beh, no, senti... Allora, al Salone... No, no, al Fuori Salone, a un evento di Fuori Salone ti invitano perché tu sei quella che ha il fastidio. Vado e dico tutto il fastidio che opero. Tutto il tempo così. Sì, sì, allora che fastidio... Stavo per dire una parolaccia. Ma dai, ma è possibile, ma cosa vuol dire? Tutte le cose così. Va bene. Ciao, Riby. Andiamo con un po' di musica. Grazie mille. Grazie mille. No, non mi sono fatto male. Era Frozen, Madonna. Sì, era lei. Non si era capito? Come stavo armonizzando. Sentite come armonizzo bene. Sì, è la melodia del lungo incarnita. La conoscete? Ah, è bellissima. È famosissima da queste parti. Comunque, questa era Madonna con Frozen. Sono le 7.54. Adesso ci fermiamo per la pausa del giornale radio. E poi, dopo il giornale radio, torniamo e torna con noi Silvia Gatti qui in diretta con, come sempre, ospiti interessantissimi che andremo a sentire. Quest'oggi parliamo anche di musica o solo di altre cose, perché poi per musica, ma c'è anche del writing, ma c'è un po' di tutto, ma poi ce lo racconta bene Silvia con i suoi ospiti. Allora, andiamo con un po' di musica, giornale radio e poi qui con Silvia Gatti in diretta su Good Morning Milano, Crystal Radio. E adesso con la pesce di Martino con Splash. Blondie, Heart of Glass, 8 e 09, venerdì 12 aprile, Good Morning Milano, Good Morning Milano con Silvia Gatti. Buongiorno Silvia. Good morning Fabio, buongiorno. La nostra felina del venerdì, eccola qua. Come stai Silvia? Bene, è una felina pigra e stanca, però ok. Non è tutte le mattine una Gatti si sveglia e sa che deve correre. No, no, proprio. Nella savana metropolitana, non è così. No. A proposito di savana metropolitana, scusa Silvia, ti fermo un secondo prima di introdurre i tuoi ospiti perché ci arrivano notizie che la M5, la linea Lilla della M5, in questo momento è rallentata, quindi in direzione, subito, San Siro, passa, perché passa, ma è molto molto rallentata, quindi pigliatevi il vostro tempo. Non spingete. No, no, e soprattutto prendete l'impazienza appunto e il vostro tempo. Cioè calcolate un 10-15 minuti in più per varie percorrenze. E venerdì in più c'è, la cosa divertente, Silvia, che c'è tutto questo casino in giro di traffico e tutto, perché c'è il G7 dei trasporti. Ho capito, che bella notizia. No, che porta disagio ai trasporti, è quello divertente. Ma certo, è quello il bello, cioè voglio dire. Comunque passiamo a cose più divertenti, simpatiche e interessanti. Abbiamo un ospite, l'hai portato tu, chi è? È Flycat, buongiorno. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Silvia. Ciao, allora non abbiamo bisogno di presentazioni, forse sì o forse no, comunque Flycat, writer storico italiano, di fama anche internazionale e anche professore, correggimi se sbaglio. Sì, sì, va benissimo. C'è molto altro da dire, nel senso che ho visto musica, moda, mostre, ma adesso ne parliamo con calma. Tu sei un artista e un writer milanese che è in attività dal 1984, quindi sono ben 40 anni. che sei su piazza. Sì, quest'anno nel 2024 c'erano proprio i miei 40 anni di arte. Quindi hai cominciato super super giovane, perché non diciamo l'età, avevi 13 anni, però veramente eri un ragazzino. Ci vuoi raccontare che cosa ti ha influenzato così piccolo, così giovane e anche in particolare ho letto che tu sei specializzato, diciamo così, nella ricerca sulla lettera, giusto? Allora, innanzitutto, se parliamo di writer, appunto writer è colui che scrive, ok? Noi scriviamo, non dipingiamo. Io, diciamo, parlo del sottoscritto, lavoro sui 26 elementi lettera dell'alfabeto latino, quindi vuol dire dalla A fino all'elemento Z e quindi operiamo sulla lettera, sulla struttura della lettera. Quindi la lettera in arte diventa significato e significante. La lettera è il soggetto primario su cui si lavora. Quindi poi dopo un lavoro pittorico che viene chiamato pezzo in italiano dall'inglese masterpiece, quindi opera d'arte, può essere correlato anche di immagini, diciamo, iconografiche, scenografiche, però l'elemento essenziale è proprio la lettera, il nome dello scrittore, dell'artista. È corretto quindi in questo caso comunque usare la parola murale? No, il murale è tutto un altro discorso. Diciamo che adesso, purtroppo, nell'ultimo decennio viene spesso utilizzata in errore questa definizione street art, ok? Dove nel termine street art viene un po' messo dentro, un po' come un minestrone, ci metti tutto dentro quello che è avanzato nel frigoro. Esatto. Quindi invece no, writing è una cosa, come ci ho detto, noi lavoriamo sulle lettere. Quello che è street art è in realtà tutto quello che succede in ambito urbano, quindi può essere anche, una volta ai miei tempi da ragazzino c'erano i cosiddetti madonnari che erano pazzeschi, bravissimi, che in piazza Duomo difingevano queste icone stupende. Ok, purtroppo adesso non esiste più questo tipo di pratica artistica, però diciamo tutto quello che succede nell'ambito urbano può essere definito, integrato nella parola street art o meglio io preferisco urban art. E un po' sai come dire, faccio sempre questo esempio, quando vedi i b-boys che ballano per strada, quindi a break dance o breaking e poi magari a fianco o nell'altro diciamo angolo di strada c'è un artista di strada tra virgolette che magari fa la sua performance di mimo. Ecco, non è che fanno parte dello stesso movimento culturale, è solo perché operano sullo stesso territorio urbano. E dal punto di vista invece della legalità e della illegalità, il fatto di, detta volgarmente proprio così, scrivere sui mori, qualcuno dice pasticciare, sporcare, deturpare, imbrattare. No, ma non c'è niente di male se nel termine imbrattare a me fa l'idea perché comunque c'è sempre, allora, il discorso che illegalità e legalità, allora, è molto sottile nel senso che il fenomeno del writing o quello così come lo conosciamo, ovvero quello legato anche al fenomeno più largamente diffuso che è la cultura hip hop, di cui il writing è una delle quattro espressioni, quattro elementi, diciamo che naturalmente nasce da un'esplicità libera, quindi nasce nella strada, si diffonde attraverso i vagoni della metropolitana perché era importante il movimento delle lette, quindi ha qui il nesso con il movimento del futurismo. Ok, però nell'intento del writer non c'è un sentimento di distruzione, di creare danno, ma semplicemente quello di esprimersi, ok? Poi naturalmente non puoi pretendere che tutti accettino il tuo modo di esprimerti e questa è la regola del gioco, non si può pretendere niente, quindi devi accettarti i tuoi rischi, però non c'è nessun sentimento negativo nell'atto scrittorio, chiamiamo così, artistico. Poi dopo naturalmente possono esserci declinazioni anche negative in tutto quello che è successo, una involuzione, non una evoluzione del movimento e quindi magari viene un po' non compreso come in realtà dovrebbe essere, non diffuso come dovrebbe essere. Flycat, dimmi se sbaglio, questa cosa che mi hanno detto adesso delle lettere in movimento credo sia ben spiegata in una serie Netflix molto interessante che è The Get Down, dove proprio vediamo anche, soprattutto i titoli anche delle puntate, essere scritti sui vagoni della metropolitana come messaggi che vanno in giro per la città, che partono dal Bronx ma poi escono dai confini del Bronx grazie proprio anche alla metropolitana new yorkese, in quel caso appunto è la fiction della serie tv, ma era così proprio, cioè venivano utilizzati i treni non tanto perché erano belli i treni, quanto perché il messaggio potesse essere mandato oltre il confine del Bronx, no? C'era anche questo, credo, nell'origine del perché scrivere sui treni ad esempio in quel caso. Esatto, era come una via di fuga, ok, no? L'unico modo per uscire da una determinata realtà era dato appunto dal vagone della metropolitana che si spostava dal tuo quartiere, andava magari a downtown new york, ok? E quindi questo è stato questo. E un po', sai, c'è la filosofia di questo grandissimo maestro, nonché mio maestro personale che purtroppo ci ha lasciato nel 2010, che era Ramel V, dove praticamente diceva nel suo manifesto del panzerismo iconoclasta, futurismo gotico, paragonava i vagoni della metropolitana a delle rolling pages, ovvero dei rotoli di pergamena, ok? Quindi che si muovevano in movimento e quando tu vedi il numero di, questo è molto divertente, quando vedi il numero di matricola a fianco di una carrozza della metropolitana, che la vedi anche in Italia, in tutte le linee metropolitane del mondo, quel numero di matricola che può essere diciamo 1122, per diti di solito è fatto da 4 o 3 cifre, e equivale al numero di una pagina, di un enorme codice, ok? Quindi devi immaginare questo, queste migliaia di pagine che passano, che non necessariamente seguono una cronologia, quindi 1, 2, 3, quindi puoi passare dal 1123 al numero 222, ed è una sorta di filosofia fiabesca, mi piace chiamarla. Hai parlato dei quattro elementi dell'hip-hop, quali sono gli altri elementi che caratteriscono l'hip-hop? La cultura hip-hop nasce finalmente, diciamo, con i quattro elementi, ovvero che è l'arte musicale, quindi la musica del DJ, il DJing, quindi creare musica con i due tone tables, con i piatti, poi l'MC, quindi quello che viene chiamato rap, quindi la poesia sopra il beat mandato dal DJ, e il ballo, ok? Che andava a correlare tutto, quindi quello che è chiamato breakdance o breaking, ma in realtà era b-boying, perché i b-boying erano i ragazzi che ballavano sopra i beat, i breaks, i breaks, ok? Le, diciamo, quelle parti del disco che venivano utilizzate per creare una base sincopata su cui il rapper andava a esprimersi, e la parte visiva artistica che è data dal writing. Chiaro. Ma Flycat, tu hai fatto anche comunque tantissimi giri e hai vissuto, sei andato comunque negli Stati Uniti e ci hai vissuto, ho letto New York, Los Angeles, cosa ci puoi dire? È lì che è nata questa cultura comunque, e tu hai potuto… Sì, la cultura hip-hop nasce nel South Bronx, ok? Quindi è lì, lì è proprio la culla, l'origine, e poi naturalmente si è diffusa in tutto il mondo. Hai fatto un viaggio a New York nel 91, hai potuto conoscere anche importanti artisti della scena di quel periodo, che ti hanno anche riconosciuto ufficialmente, proprio anche come parte delle loro crew, o sbaglio? Io sì, la prima volta che ho potuto permettermi un viaggio intercontinentale è stato appunto nel Natale del 1991, dove andai a New York e fui ospitato dal grande Feistu, pionieri in contrastato della cultura del writing, della cultura hip-hop mondiale, e da lì è nato tutto. Sai, ai tempi, naturalmente non esisteva la rete e tutte queste cose che ci sono adesso, era importante, molto importante, una stretta di mano valeva come milioni di followers, capisci? Se vogliamo fare un paragone. E si parlava, il codice universale era lo sguardo, lo sguardo, lo sguardo è lo specchio dell'anima, e quindi tutte le relazioni più importanti si sono formate con queste due semplici interazioni, quindi una stretta di mano e uno sguardo. Purtroppo questa cultura viene spesso però legata, associata alla violenza, alle bande che si sparano East, West Coast, ai soldi facili, allo spaccio, c'è del certo macismo anche dell'omofobia. Queste sono un po' fiabe datate, nel senso che comunque l'hip-hop nasce nella strada e quindi comunque, adesso parliamo di rap, quindi il cantastorie, praticamente narra quello che succede nel proprio quartiere e poi naturalmente non sentirai mai nessuno che viene da una situazione povera e esaltare quella situazione lì, nel senso che l'hip-hop ha rappresentato proprio questo, adesso parlo anche del sottoscritto, come dicevo poc'anzi, la via di fuga, nel senso non avendo potuto seguire un percorso di studi, diciamo, canonico, l'hip-hop rappresenta l'università, ha rappresentato l'università e ha avuto molti suoi studenti, anche eccellenti. Poi sai, come in una scuola ci sono quelli che vengono rimandati o vengono bruciati e c'è chi consegue il diploma. Beh no, ok, non tutti però, c'è un certo scopiazzamento anche da parte di altri paesi e di altre realtà, fingersi un po' disagiati, un po' del ghetto, quando in realtà non lo si è, scopiazzando un pochino quello che invece è successo negli Stati Uniti, però con, nel senso era la realtà vera. Il ghetto innanzitutto è uno stato mentale, penso io. Poi, dal mio punto di vista non c'è niente di bello nell'essere povere, non c'è niente di bello di vivere una vita disagiata, è inutile raccontarcela, è inutile raccontarcela. E perché però fa così a pille questo racconto sui ragazzi? Perché fa così a pille invece questo racconto sui ragazzi, secondo te? Perché i nuovi... Ma solitamente sai, il giardino del vicino ha sempre l'erba più verde, è sempre così, quindi sai, non è che... Far vedere che ce l'ho fatta. Scusate l'analogismo con l'erba. Sì, no, lo stavo dicendo io. Ma fa ridere... Di solito dicono che l'erba del vicino è sempre più buona in quel caso, non più verde infatti. Beh, qui adesso ci vorrebbe un bel pezzo degli articoli 31, allora, così almeno andiamo un po' a ridere. E forse poi ti accontentiamo. Eh, dai. E come si dice, no, aspetta ho perso il filo del discorso, nel senso che comunque, allora, l'hip hop è questo, rappresentava, ok, una via di fuga, ma è questo, prendere il più grande insegnamento che io ho ricevuto dalla cultura hip hop in generale è questo, che, cioè quando dico in generale nelle sue quattro forme, prendere attività, stringere da un'energia negativa e trasformarla in positivo, è questo che il b-boy fa, è questo che vuol dire fare hip hop, essere hip hop, ok, no? E questo non è una roba di MTV, hai capito? Ok, dove lanciano dollari. Io nella strada, io nella strada ci cammino, ci vivo, ci mangio, ma ci gioco, ci gioco anche, la strada non è solo una cucina di delinquenza, ma è anche una cucina di creatività, ok, è una palestra di vita, però questo non vuol dire che la strada è bella, la strada non è bella, assolutamente, la strada è brutta, è bruttissima, hai capito? Sono belli i suoi protagonisti che la fanno, che la elevano, ok? Questa è la cosa bella, per questo che l'hip hop è fondamentale e non a caso viene molto spesso utilizzato il termine universale, universalmente riconosciuto, non a caso Bambata fondò la Universal Zulu Nation. Ti faccio un esempio, chiesa cattolica vuol dire chiesa universale, cioè la parola universale non è messa a caso, è questa cosa importante, è un codice universale, che chiamava se, che riuniva se tutte le persone. La Zulu Nation, cosa mi hai tirato fuori? Wow, che ricordi, che ricordi. Vi fermo un attimo adesso. La Zulu Nation è la molto importante. Poi ne parliamo se vuoi, adesso però vi fermo e mandiamo con un po' di musica, musica che poi ti fa capire come ad esempio poi a un certo punto tutto questo è diventato anche business e show, perché insomma tanti film hanno portato sullo schermo appunto il rap, l'hip hop, la periferia, le strade, quasi ad esaltarle nella loro, nel loro essere cosighetto, ma quasi ad esaltarle, però insomma sono uscite anche delle grandi perle, una di queste è la Gastron's Paradis di Coolio. Mahmood con Bario alle 8.33, Crystal Radio ancora qui con Silvia Gatti e Flycat in collegamento con noi, Silvia, insomma stanno parlando di tante cose, tanto che appunto l'arte del writing porterà il nostro Flycat anche ad avere una mostra, giusto? Sì, Flycat dici pure cosa succederà questo sabato 13 aprile a Bologna. No, sì, no, sabato, io sono partecipante, copartecipante di questa bellissima mostra che si intitola Frontiera 40, curata da Fabio Lanardi, presso il Museo di Arte Moderna al Mambo di Bologna, è praticamente una mostra celebrativa, commemorativa di Francesca Alinovi, curatrice storica dell'arte che purtroppo venne assassinata poco prima di vedere la realizzazione del libro catalogo Arte di Frontiera, di cui poi seguì la mostra, itinerante per l'Italia, dove fu la prima portare il fenomeno del writing, quindi dal South Bronx, dalla pedagogia di New York nel mondo dell'arte contemporanea. Fu una delle prime, diciamo, menti, diciamo, illuminate e non fu l'unica a comprendere questo. Non fu Sgarbi? No, non era Sgarbi, Fabio. Come molti dicono, no? Molti danno questa... No, no, con tutto rispetto, perché ho anche lavorato con Vittorio Sgarbi. No, ricordiamo la famosa mostra... Parliamo di altri anni, parliamo di altre dimensioni, insomma. Ho letto di 181 autori di diverse generazioni, le cui opere verranno esposte in 11 tech e mobili, giusto? Sì, saranno tutti dei bozzetti, quindi praticamente degli scherzi, dei disegni su carta, che rappresentano diciamo il primo passo nell'evoluzione di un writer. Come i bambini a scuola, inizi a disegnare sui tuoi fogli Fabriano, capito, per poi arrivare, se vuoi, a dipingere più avanti su una tela nel corso dei tuoi anni della tua evoluzione. Però è molto divertente. Io, per esempio, ho dato questo mio disegno del 1986, che per me posso solo definirlo carinissimo, perché è disegnato coi pastelli ed è una sorta di autoritratto col cappellino da baseball e gli occhiali stile Grandmaster Flash, no? Quindi è troppo divertente. E' tutto un'evoluzione che parte appunto dagli anni Ottanta per arrivare alle ultimissime generazioni, proprio per celebrare questa grandissima persona che fu Francesca Alinovi. Fantasica, ma cosa mi citi poi? Prima mi citi l'Africa Bambata, mi citi la Zulu Nation, adesso mi citi Grandmaster Flash. Io ti ho portato Flycat, non uno preso fuori. Il pubblico questa mattina impazzisce. Tra l'altro, tra l'altro, perdonami, Grandmaster Flash l'ho visto lo scorso anno, quando c'era ancora in corso il patatrack del Covid al Conservatorio di Milano, è venuto ed è stata una cosa pazzesca, veramente. Tra l'altro non ci si poteva, era vietato ballare. Tu immagina di te, ma a un certo punto si sono alzati tutti e hanno cominciato a ballare sulle note di The Message, capito? Quindi cosa vuoi di più? È giusto così. L'hipop ha sconfitto il Covid anche, grandissimo, al Conservatorio di Milano. È grandioso per me. Master Flash al Conservatorio di Milano, aiuto. Abbiamo parlato di quando eri bambino, ma tu ci lavori con i bambini, con i ragazzini? Ma io probabilmente ero, ma lo sono ancora, quindi questa è la cosa. Sembriamo tutti più giovani noi, ecco, vuoi dire. Fai conto che dallo scorso anno ho iniziato questa meravigliosa collaborazione con una scuola bilingue italiana, cioè Milano, che si chiama BDC, sta per B2Create, è una scuola internazionale, dove io lavoro esattamente con i bambini dalla scuola year two, quindi vuol dire dalla prima, seconda elementare, per arrivare alla seconda media. E ho portato questo nuovo programma, questa nuova visione di programma didattico, pedagogico, dove vede protagonista la scrittura, il writing, però con un approccio naturalmente pittorico. E anche nel concetto più ampio dell'urban art, come dicevo poco anzi. E i bambini ce l'hanno nel loro DNA. Io ti faccio questo, voglio farti questo esempio, perché è molto più semplice. Allora, io mi immaginavo, immaginati da piccolo io, negli anni 70, quando mi hanno dato in mano la prima volta una matita, una penna, io sapevo comunque, era già dentro di me, che con questo aggeggio potevo esprimermi, scrivere, sapevo già come impugnarlo e tutto. Ok, sarà perché magari vedevo i miei genitori che lo usavo, vedevo la televisione. Ok, questi erano i miei impi. Adesso, la prima volta che io avevo come strumento nella scuola delle bombolette spray, tra l'altro bellissime, perché sono quelle piccolissime, fatte apposta per i bambini. Mini proprio, no? Ah dai, fantastico. Praticamente all'acqua, naturalmente, perché non devono essere... Meno tossiche possibili. Non devono fare... Esatto, esatto. Mettiamola così, sì. E praticamente, ho dato la bomboletta spray a questa bambina che aveva 6 anni, che non aveva mai utilizzato la bomboletta spray, mai vista nella sua vita. Ti giuro, ha preso la bomboletta spray e è andata direttamente sul muro con il gesto per scrivere. E io lì ho avuto la conferma che l'hip hop e il writing sono il codice universale. E questo è il codice che parlano le generazioni del ventunesimo secolo. Questo è, questa è materia, è diventata materia di studio, è il codice di comunicazione attraverso la musica, attraverso il ballo, attraverso la scrittura e questo. E questo per dire che l'arte, l'arte è il codice universale del mondo, di tutti noi che ci uniamo tutti. Siamo tutti, siamo uno diverso dall'altro, però che cos'è che ci accomuna a tutti? Lo stesso cielo. Lo stesso cielo sotto il quale ci si esprime con l'arte anche, fin da piccoli. Allora, l'uomo ha sempre... Quindi è questo il processo che hai adottato poi per passare anche, diciamo, dall'altra parte del muro? Non solo quindi a disegnare, ma quindi anche a cantare a un certo punto? Allora, io non mi sono mai definito rapper o MC, quindi Master of Ceremony, ma sono un writer, preferisco definirmi scriva, colui che scrive, ok? E io che cosa faccio? Lavorando appunto sulle lettere le posso dipingere, ok? Le posso costruire, creando la loro, seguendo la loro architettura di forma e come faccio questo? Gli dono anche il suono, le rivesto con il suono e quindi l'oralità. Quindi dalla parte pittorica si va all'oralità e quindi al racconto. Quindi la lettera diventa serve strumento per narrare, ok? Quindi è quello che faccio, ok? E quindi è stato un passaggio naturale per me, a parte che appunto ti dicevo, la prima espressione dell'hip hop che mi ha colpito stranamente è stata la break dance, quindi io ballavo e ballavo con questo mio carissimo amico che si chiamava Nicola, che purtroppo ce l'ha stato nel 97, lui aveva due anni più piccolo di me e con lui avevamo formato questo nostro prima crew, che in realtà non era neanche una crew, l'avevamo appunto chiamata Duo, che era The Fabulous Prayer, quindi i favolosi spruzzatori, cioè spruzzatori se vogliamo tradurre, però era per dire writers, no? Quindi per dire, fa ridere dei ragazzini che sanno poco più che disegnare, pasticciare appunto e si definiscono i favolosi. Questo è proprio emblematico per la cultura di paia. Fa pensare quando vedi le tag anche di neofiti che sono tra virgolette proprio ignoranti nello scrivere, devo dirlo, scusami, questo lo devo proprio dire, che utilizzano la corona, però quello è bello comunque, capisci? È bello perché questo voler spuggiare, questa voglia di dire io sono, io sono, comunque è da vedere anche in modo simpatico, perché rappresenta proprio lo spirito che si ha a quell'età. Ed è giusto, come si dice a Napoli, la sfaccimman, capito? È questo, e va bene così. Con chi hai collaborato però quindi a livello vocale? Hai fatto dei pezzi? Beh, io ho fatto tre album nella mia carriera, e il più importante in assoluto nel 2006, perché sono stato il primo, adesso qui utilizzo la definizione rapper, italiano, a essere prodotto da una band statunitense importante, che erano The Cycle Realm, o Six Symphonies, che sono, per chi non lo sa, erano una costa, una costa dei Cypress Hill, ed erano formati da Big Duke, Six Jackin, e quindi praticamente io ho prodotto un album con loro che si intitola Our Sign, il nostro segno, dove ci sono tredici tracce in italiano. Io recito, ok, in italiano sempre, mi sono anche esibito sempre in italiano, e la produzione musicale e i featuring, diciamo, canori all'interno, sono tutti in inglese, da loro. Quindi questa è una cosa molto importante per me nella mia carriera, e poi recentemente, anche se non proprio così recentemente, è uscito un singolo con due miei carissimi amici, che sono Esa, che penso che sia il rapper più bravo d'Italia, assolutamente, Esa De Prez, e DJ Jedder, articolo 31, grandissimo, e abbiamo fatto questo pezzo che è intitolato Lui è il Gatto, e la grafica curata da K1, che è un grandissimo writer, che è mio amico che saluto. Che bello. Ce lo sentiamo allora, no? Sì, andiamo ad ascoltarcelo. Andiamo ad ascoltarci Flycat con Lui è il Gatto. Lui è il Gatto, ed è al telefono con noi, perché è Flycat. E eccoci. Eccoci. Volevamo parlare di un evento importante, abbiamo detto che tu sei professore in una scuola di Milano, una scuola bilingue, che è la BDC School, con tre sedi, se non sbaglio, giusto, ben tre sedi, e in quella, in zona magazzini generali, via Pietrasanta, via Pietrasanta, poi si possono trovare comunque tutte le coordinate, se curiosate un pochino, anche sulla pagina Instagram, sia della scuola che di Flycat, farete una mostra. Spiegaci un po' che cosa succederà. Praticamente facciamo un po' una mostra in occasione della settimana del design qua di Milano, nel Salone del Mobile, e il 18 faremo la presentazione, ci sarà la presentazione di tutti i lavori artistici dei bambini, degli studenti, delle varie sezioni, delle varie classi, perché non sono l'unico, io mi occupo di Urban Art, ok? Naturalmente, poi ci sono dei veri professori, ok? E praticamente, e io presenteremo il lavoro che abbiamo fatto in questo ultimo anno insieme, ci saranno delle sculture bellissime create con i giocattoli recuperati di riciclo attraverso un progetto che io ho chiamato Toys Bank, dove invitavo i genitori e i bambini a prendere, invece di buttare via i vecchi giocattoli, soprattutto quelli erotti, di portarli e così poter riutilizzare e ricreare noi, dare nuova vita. Sempre per il discorso di prendere da un'energia e ritrasformarla, capito? rigenerarla. Soprattutto adesso, sai che si parla tanto di green, di rigenerazione, questo c'è sempre stato, quando torniamo al discorso della strada, la strada è anche questo, riuscire a creare quel poco che si ha, ma quel poco che si ha è tanto, è tanto. Banalmente, anche scusami se mi ricollego un po' al rap, perché ci si vestiva baggy style, cioè con pantaloni, camiccione, t-shirt grandi? Io le mettevo, anche io. Io ho letto, correggimi se sbaglio, che si trattava del riciclo di vestiti magari che poi restavano un po' grandi perché non erano i tuoi, non te li hai ricordato completamente tu. Ma va, va, va. Non è così? Ma va, non è questo. Allora come diceva mio papà, questo l'ha detto a qualcuno in TV, di la verità. Allora come diceva mio papà, mio papà mi diceva che aveva i pantaloni, scusatemi il termine, ciappamerda, li chiamavano. Ecco, l'abbiamo vippato. Quindi, di ritorno al riciclo. No, no, no. Figurati, come dicevamo qui, abbiamo citato Grand Master Flash The Message. Ecco, se tu guardi The Message sono super aderenti che fanno invidia ai village people, hai capito? Quindi non è che... C'è la con MTV, Flycat. No, no, è solo perché è un periodo storico molto importante, hai capito? Figurati, c'è anche il cavolo là collaborato, nel senso, è per identificare un periodo, capisci, storico, proprio importante, una transizione, ok? Come adesso ce n'è un'altra, no? È uguale, ma è ciclico. È ciclico, Come dicevo prima fuori onda, è ciclico. L'hip hop, perché deriva anche dal, e molto importante è il soul, l'anima, è questo. L'hip hop rimane chi ha anima, l'anima rimane, il corpo è un involucro. L'hip hop come viene presentato adesso, tutto scorporato, ok? Quindi metti rap, graffiti, DJ, tutto staccato. questo non è la cultura hip hop, sono semplicemente dei mezzi di espressione. Se tu togli il rap dall'hip hop non è niente, non è niente, assolutamente niente. Se tu prendi uno che dipinge con la bomboletta spray e lo togli dal discorso più ampio culturale che è la cultura aerosol, che è la cultura del writing, che è la cultura dell'hip hop, non è niente, è semplicemente qualcuno che utilizza un mezzo, ok? prima nato come bricolage, poi diventato strumento di fine art e ci fa qualcosa, ma non è niente, non è assolutamente niente, non è perché tu prendi in mano un pennello che diventi un rappresentante del nuovo rinascimento. No, certo, no, no. Non è lo strumento. Chiarissimo, chiarissimo. E quindi questo è Fly Cat, è quello che sa fare, l'abbiamo anche ascoltato nei suoi brani, lo possiamo anche vedere appunto nella mostra poi che ci sarà a Bologna dal 13 d'aprile e anche appunto questa nuova che sarà fatta il 18 invece dicevamo giusto il 18 in via Fietra Santa la sede della BDC dalle ore 18 io ci vado io ci vado Silvia viene sicuro allora ci vediamo tutti alla mostra lì il 18 durante appunto la design week da professore da professore sono diventato alunno dei miei studenti però sicura carri come dicevamo non si smette mai di imparare giustamente effettivamente è così ma hanno tanto dato ad insegnarci queste nuove generazioni devono solo stare ad ascoltarle effettivamente perfetto Flycat grazie mille davvero grazie a voi è stato interessantissimo a presto seguiamolo sui social immagini su tutte le coordinate poi le mettiamo anche sul nostro sito sul nostro podcast quindi insomma tagheremo le storie quindi insomma seguite Flycat e studiate studiate cos'è la cultura hip hop studiate sempre sempre welcome to the break a break a dawn adoro vai grazie Flycat a presto ciao 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 Silvia siamo quasi in chiusura ma non prima l'abbiamo citato grazie a Flycat più di una volta a questo punto ce l'ascoltiamo Grandmaster Flash and the Furious 5 con The Message qui in diretta su Good Morning Milano Crystal Radio 8 e 51 minuto venerdì 12 aprile The Message Grandmaster Flash 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano anche e grazie insieme a Silvia Gatti Silvia Gatti che ritroveremo qui ancora con noi nelle prossime settimane grazie Silvia ancora anche oggi grandi ospiti grandi ospiti e non ho finito ancora non hai visto niente infatti infatti anzi anche i Whatsapp ti dicono bentornata e buon weekend grazie anche a voi i miei fan sono sempre i tuoi grandi fan buon weekend anche a voi buon weekend ebbene sì perché oggi è venerdì l'abbiamo detto poche volte oggi è venerdì e quindi thanks god it's Friday dopo di noi senti questa con Ambrogio Curti la grande musica raccontata da Ambrogio dopo il giornale radio e poi per avanti tutta la programmazione comunque del venerdì di Crystal Radio se siete curiosi di sapere che cosa Silvia ci porterà nelle prossime settimane ebbene dovete rimanere collegati con noi anche sui nostri social o sui social di Silvia Gatti ma perché no Silvia Gatti on air con vari underscore sicuramente non è che dirlo con la faccia schifata no vabbè sai io sono umile ah è la faccia dell'umiltà timida la faccia della timidezza sì soprattutto lei è timida sicuramente no se lei è timida io sono Napoleone non so perché tra tutti ho pensato proprio Napoleone sa che c'è un mal di pancia e c'è una mano sulla pancia ci interessa eh le voci che avete sentito quest'oggi sono quella di Silvia Gatti e Fabio Ranfi Codio Vatti e dalla regia da Elisa Maria e tutta la redazione di Milano News grazie ancora a tutti quanti per averci seguito grazie ancora ci sentiamo settimana prossima e buon weekend Silvia buon weekend anche a voi anche a te ciao ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao a tutti